Musica Esplosione all'azienda TCA di Castelluccio, ditta specializzata in finiture di metallo, due i feriti gravi. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Arrivato anche l'elisoccorso Pegaso, atterrato al campo sportivo di Castelluccio. Secondo le prime indiscrezioni, l'esplosione sarebbe partita da un forno per il riciclo delle polveri lavorate. I due operai feriti sarebbero stati scagliati a terra dalla forte esplosione, come ci ha detto il sindaco di Capolone Alberto Cioffi, al corso immediatamente sul luogo dell'incidente. Uno dei due feriti è stato già trasferito all'ospedale San Donato di Arezzo, riporta gravi ustioni. Il secondo ferito è partito con il Pegaso verso il centro, grandi ustionati di Cisanello.